in difesa della legalità, attraverso il contrasto al fenomeno del caparolato e dello sfruttamento nel lavoro agricolo. Esempio è testimone di non violenza che accoglie e difende i diritti umani contro le politiche della paura e dell'esclusione, mantenendo viva la fiammella della speranza nello Stato di diritto e nella giustizia.